Perché tutti parlano male di tutti? Perché credono di rimetterci qualcosa se riconoscono il più piccolo merito a qualcuno. Si potrebbe partire dalla massima di Goethe per aprire una riflessione sullo sgombero che ieri ha visto per la prima volta lo Stato, la Regione, la città di Roma, alzare la voce, ma davvero, contro il clan di Casamonica, facendoli sloggiare dalle loro ricche e abusive abitazioni e ristabilendo la legalità, dimostrando di essere infinitamente più forte di qualche mafiosetto che pascola impunito e spadroneggia in un intero quartiere. Ed è un segnale importante, comunque la si pensi, perché lo sgombero di Casamonica parte da lontano 1997, 21 anni fa. Risalgono a quell'anno le prime contestazioni di abusivismo e fino ad oggi nessuno ha avuto il polso o la voglia o il potere o la giusta squadra intorno per dare concretezza a un'ordinanza definitiva di demolizione. E chiunque mastichi un po' di mafie e di organizzazioni criminali sa bene quanto conti per il clan sfoggiare la propria impunità con una bella villa in una zona che è addirittura archeologica. E pensavo stamattina che forse la politica, certa informazione, la buona opposizione potrebbe occuparsi della vittoria, di una vittoria dello Stato, più che spremersi lì con tutte le forze per dimostrare quanto sia merito di uno e non sia merito dell'altro, più merito di uno e poco meno di quell'altro. In una continua e poco credibile rincorsa al discredito altrui piuttosto che occuparsi di riaccreditarsi, di recuperare quella credibilità che forse è andata un po' persa. Perché è vero che a gennaio di quest'anno la giunta Zingaretti ha meritoriamente preso in mano la situazione con una delibera che ha acquisito l'immobile e l'ha destinato all'abbattimento. Ma il settimo municipio e il comune di Roma hanno messo energie e soldi, soldi, risorse, perché tutto questo potesse avvenire. Tra l'altro in Italia, la patria degli ordini di demolizione in evasi. Forse a ben vedere chi ha avuto la vita più facile e comoda è stato il ministro dell'interno, Salvini, che si è ritrovato con un'opera già quasi compiuta. Ma con tutta la distanza che mi separa da Salvini non stupisce che un ministro dell'interno sia presente in un evento del genere. L'ha fatto con petulante e fastidioso protagonismo, ma quella è la sua natura. L'avvenuto sgombero, tra l'altro, certifica anche l'importanza del giornalismo investigativo e quello degli sciacalli. Ancora una volta dimostra l'importanza di fare luce per spingere la politica ad agire. Federica Angeli, Floriana Bulfon, Lirio Abate e altri colleghi hanno permesso all'opinione pubblica di conoscere le dinamiche del clan e di smutandare i prepotenti in pubblica piazza. Penso che ci siano decine e decine di decisioni e di nazioni da parte del comune di Roma e della sua amministrazione per criticarla. E da queste parti le critiche non le abbiamo mai risparmiate. Ma giocare di sponda su un atto che a Roma si attendeva da anni è un po' imbarazzante. No, un po' come diceva, ve lo ricordate, il mentore di Mr. Orange nel film Le Iene. Le cose importanti da ricordare, diceva, sono i dettagli. I dettagli rendono una storia credibile. E allora, molto bene, lo scomparo. Al di là del tifo. Buon mercoledì.